Roberto Gambino annuncia una vibrante protesta che passerà dalla decisione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. È arrivata la bolletta pure al comune di Caltanissetta ed il sindaco non ci sta. L'ente deve pagare esattamente il doppio per ogni singola bolletta rispetto a prima. Le bollette della luce delle scuole le paga il comune, le bollette del riscaldamento delle scuole le paga il comune, le bollette dell'illuminazione pubblica le paga il comune e il comune non viene assolutamente tutelato dallo Stato. Siamo veramente alla frutta. Significa che noi questi costi li dobbiamo compensare in qualche maniera. Costi duplicati, assolutamente duplicati rispetto a un anno fa. Ma se i comuni hanno problemi già con i loro bilanci, questi soldi dove li vanno a prendere? Allora noi in questo momento è veramente una cosa assurda che il governo, di cui fa parte pure il movimento in cui milito, dal punto di vista politico, non si occupi degli antilocali che hanno veramente dei problemi così grossi. Perché poi questi costi dove si ribattono? Ovviamente sui cittadini. Cioè i bilanci dei comuni sono quelli che sono, ma noi vogliamo evitare assolutamente che ciò accada.